Il Nardò vince per 4-0 contro il Lavello e tiene il passo di Cavese e Barletta, conservando la seconda piazza in classifica in attesa del big match di domenica prossima in terra campana. Di contro i Lucani di Zeman non entrano quasi mai in partita, nonostante il classico 4-3-3 con puntoriere Maione e Bramati, praticamente mai pericolosi. D'Ambros e Ferreira invece nel 4-4-2 di Ragno, che esercita una pressione costante alla porta difesa dal classe 2001, Trapani e Montinaro pronti via, ci prova con un tiro dal limite di destro che l'estremo difensore respinge con qualche difficoltà, Ferreira dall'altro lato appena in area, calcia sempre di destro, Trapani attento in corner ma poco oltre il quarto d'ora. Ecco il gol del vantaggio che sblocca subito la partita, palla in profondità e D'Ambros vince il duello aereo con Bruno e a tu per tu con Trapani lo batte con un diagonale mancino. Il gol galvanizza ancora di più i padroni di casa sempre più sicuri nel gioco e nei propri mezzi ed è sempre Montinaro da sinistra di impegnare a terra Trapani l'inserimento profondo di Ciraci con il colpo di testa alto da ottima posizione ed ancora il tiro di Montinaro appena in area su assist di Ferreira. Palla ancora deviata con qualche difficoltà da Trapani, sempre il numero 77 di casa con un pallonetto supera l'estremo difensore ospite ma la palla finisce sul fondo. Doppio intervento decisivo invece per Trapani nel finale di prima frazione, conclusione dal limite di Russo e poi colpo di testa di D'Ambros in entrambe le occasioni è decisivo l'estremo difensore ospite. E' la parola fine sul primo tempo ma nella ripresa la musica non cambia, anzi Ferreira chiude subito il match con il tiro sotto l'incrocio dei pali che non lascia scampo all'intervento di Trapani. Il Nardò continua a macinare azioni da rete con Ciraci che d'esterno destro prova a sorprendere l'estremo difensore ospite, palla sul fondo non di molto, si fa vedere per la prima volta dalle parti di Viola il Lavello quando Maione calcia da lontano in caduta. L'estremo difensore di casa è bravo sia nella prima respinta con la palla diretta all'incrocio dei pali e poi sul tocco ravvicinato del neo entrato sesta. Ma poco oltre il ventesimo della ripresa il colpo di testa di Urquiza a chiudere definitivamente i giochi con il tris dei nerretini che continuano ancora a premere per arrotondare il punteggio. Ci prova anche il neo entrato Mengoli da posizione defilata, poi la volta di Fedel che di sinistro coglie il palo alla destra di Trapani, bravo poi a toccare quel tanto che basta il pallone per non permettere a Mengoli di calciare a porta completamente vuota. D'Ambro scalcia fuori su azione di contrattacco e nel finale poi c'è tempo anche per un episodio curioso, tocco di mano di Scaloni in aria, il penalty assegnato per i padroni di casa, dal dischetto si presenta Gionai da poco entrato che al momento del tiro però scivola e tocca con il piede d'appoggio il pallone prima di colpirlo con il destro. La palla finisce in rete ma il direttore di gara maresca di Napoli annulla per doppio tocco ma Gionai si riscatta subito dopo con l'azione partita a sinistra e conclusa con un destro a giro che allo scadere significa poker per il Nardò e secondo successo consecutivo il quinto nelle ultime sette gare. Un ottimo viatico per arrivare alla sfida di cartello di domenica prossima quando la squadra di Ragno sarà attesa dalla gara a cava che potrebbe riaprire definitivamente i giochi in testa alla classifica per il Lavello e la quarta sconfitta in segare e domenica tra le murami che ci sarà la sfida contro il Brindisi.